Sì, è pesantissimo! E' pesantissimo. Vedi che la lanza del pesce è servita? Vediamo fatta questa lanza del pesce. Vedi che la lanza del pesce è servita. Vedi che la lanza del pesce è servita. Vedi che la lanza del pesce è servita. Non è che il pesce è servita. Potrebbe essere una scuola. No. Infatti, io voglio cambiare costruito. Ehi, bella! Bravo! Ora te lo spiego, questo qua è lo stomaco. Che quando sale così, va in embolia, e si estrofletta, esce fuori. Capito? Questo cuore, fra un po' gli ritornano lì. Ah, quella cucina della poteca! Cerniane! E adesso è il mione? Ah, è il pietro! La pietra! Perché? Ehi! 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 Ehi!